Maria, hai disonorato la nostra famiglia. C'è qualcosa di non umano in te. Dicono che tu sia posseduta dal demonio. Se c'è un demonio in me, c'è sempre stato. Non ci sono demoni qui. Maria di Magdala. Lei farà la volontà di Dio. Perché non dovrebbe seguirlo? Saremo giudicati. A uomini e donne bisogna dare insegnamenti diversi. A volte è come se non fossi qui. Ci vede! Si prova questo quando si è uniti a Dio. Nessuno mi ha mai chiesto cosa si provi. Le donne hanno paura a farsi battezzare con gli uomini. Va da loro. Sii le mie mani. Non è giusto che lui ti abbia scelta come nostra guida. Tu ami mio figlio, vero? Devi essere preparata. Come me. A cosa? A perderlo. Il regno di Dio non si può comprare né vendere! Dobbiamo portarlo via da qui. Qualunque cosa succeda è Dio che glielo chiede. Maria, sei la mia testimone. Sarò con te fino alla fine. Non parlare mai più a suo nome. Il mondo cambierà solo se cambiamo noi. e non resterò in silenzio. Mi ascolteranno.